Siamo qui a festeggiare 30 anni della Scuola dei Librai, in questo bel posto, pieni di amici, di famiglia, di ricordi, di libri letti e scritti, con Venezia intorno. Tutto questo direte il passato, appunto, un passato che come un mantello ci protegge mentre ci addentriamo in un bosco presente, incerto e confuso. Il passato si trascina dietro e ci salva, non lo abbandoniamo, cerchiamo di portarlo con noi.